Il Pineto supera di misura 2-1 il Porto Sant'Elpidio con una doppietta di Minnozzi, bissa i tre punti di Monte Giorgio e conquista la prima vittoria a Casalinga con Pomante in panchina. Il tecnico Biancazzurro rivoluziona gli interpreti per via degli impegni ravvicinati. Nel 3-5-2 torna Salvatore in difesa a centrocampo, spazio a Minincleri e Galeano, esordio dal primo minuto per Restaneo e Mbuba. Palladini che eredita da 13 la panchina del Porto Sant'Elpidio, si schiera a specchio con Aliffi centrale difensivo, Alessio Palladini e Gelsi a dirigere il centrocampo. In avanti la coppia d'attacco è Spagna, carissimi. I Biancazzurri di casa approcciano bene la contesa e al settimo Minincleri rischia di sorprendere il giovane Cavalieri con un tiro cross insidioso, ma l'estremo di casa si allunga e si salva in corner. I locali fanno la partita e nel giro di due minuti la portano dalla parte dei Biancazzurri, grazie ad un Minnozzi in palla. Al diciassettesimo si chiude il triangolo Minincleri della Quercia, oggi capitano, che mette in mezzo per Minnozzi la carambola, inganna Cavalieri ed è 1-0 per i Biancazzurri. Nemmeno un giro di lancette ed ecco che l'ex Tolentino confeziona anche il raddoppio raccogliendo il filtrante di Bertolo e infilando di prima Cavalieri per la seconda volta, firmando così la personale doppietta. Il Porto Santelpidio accusa il colpo e inizialmente fatica a reagire con Mercorelli di fatto inoperoso per la prima mezz'ora di gara. Al 32esimo è ancora il Pineto da andare vicino alla rete del KO, ma è provvidenziale l'anticipo di Alessio Palladini su Minnozzi ben appostato. Col passare dei minuti il Pineto arretra però il baricentro e cerca di addormentare la partita, evitando di forzare i ritmi. Al 43esimo Spagna riceve palla in aria, prova a girarsi ma la conclusione viene deviata in corner. Si va così al riposo sul parziale di 2-0. Ad inizio ripresa gli ospiti tornano in campo determinati a riaprire la contesa e riescono ad accorciare le distanze dopo 10 minuti, proprio con Spagna, il migliore dei suoi, che è lasciato libero di impattare di testa, incrocia insaccando all'angolino dove Mercorelli non può arrivare per il 2-1. La risposta del Pineto al 16esimo sempre con un Minnozzi in gran giornata che in diagonale impegna Cavalieri prima di uscire, tra gli applausi per far posto al Romano. Cambia anche per Palladini che richiama Carissimi e Pierdomenico per far posto a Zira e Marcattili. Col passare dei minuti la pressione dei marchigiani cresce di intensità nel tentativo di riequilibrare le sorti del match, ma non riesce a produrre occasioni in grado di mettere in difficoltà i biancazzurri che pur soffrendo sembrano poter controllare la contesa fino al triplice fischio finale. L'ultima occasione in pieno recupero è per Romano che, servito da Cernaz, viene però anticipato da Cavalieri proprio al momento del tiro. Il Pineto porta così meritatamente a casa tre punti preziosi, nonostante avrebbe potuto mettere in ghiaccio prima la contesa in attesa della trasferta di mercoledì in terra laziale contro la Cinzia al Balonga. Cammino in salita invece per il Porto Sant'Elpidio, che comunque dimostra anche oggi di avere le carte in regola per poter mettere in difficoltà gli avversari. Avevo paura di questa partita perché non è facile affrontare una squadra che non ha una da perdere. Noi siamo stati bravi a impattarle subito la gara perché siamo andati subito in due gol di scarto. È normale, sono un po' tra virgolette, parlo tra virgolette, dispiaciuto per il secondo tempo perché ci siamo un po' accontentati e abbiamo rischiato di fare tra virgolette il danno perché quando prendi il 2-1 poi vai a rischiare di pareggiare la partita che sinceramente non lo meritavi. Dobbiamo essere più brevi a non accontentarci. Una volta raggiunto il 2-0 dobbiamo chiudere subito la partita perché queste sono partite strane. Vorrei ricordare anche perché il Porto San De Pito è una squadra che nelle ultime partite le partite le ha sempre giocate e ha pareggiato 0-0 a Castelnuovo, ha perso 2-1 col Matese e ha perso 2-1 col Alba Longa. Quindi è una squadra che le partite non regala nulla è una squadra che, come ho detto prima, le partite se le gioca fino alla fine e noi siamo stati bravi subito a portare la partita alla parte nostra però c'è il rammatico che la partita la dovevi chiudere non dovevamo soffrire così tanto nel secondo tempo. Ma questa sarà per me da qua fino alla fine almeno fin quando ci saranno tutte partite ravvicinate sarà una routine perché è obbligatorio far riposare un po' di giocatori perché da qui fino a metà maggio troveremo tante partite ravvicinate e sono obbligato a far riposare ogni partita qualcuno. Nel primo tempo, un po' troppo timorosi li abbiamo fatto giocare un po' troppo e abbiamo sbagliato tantissimo ripeto, noi tanti in questo momento dobbiamo essere sereni e provare a giocare a calcio abbiamo incontrato una signora squadra che nel primo tempo ci hanno messo in difficoltà negli ultimi minuti quando abbiamo cambiato un pochettino modo di giocare perché ci siamo messi coi tre davanti arrivavamo ai punti di riferimento e loro giocavano meno e quindi riuscivamo a prenderli di più e buttavano questa palla in avanti avendo questi giocatori rapidi e soprattutto con minnozzi poi nella ripresa abbiamo riaperto la partita ci abbiamo provato fino alla fine i ragazzi ci hanno provato però io voglio vedere uno spirito diverso nel senso che in questo momento non abbiamo nulla da perdere quindi bisogna avere più coraggio, cercare di avere più personalità capisco che sono tutti i ragazzi però lo spirito deve essere quello del secondo tempo provare e poi si sbaglia però è interessante che ci si prova a fare qualcosa